Giorgio Pedrollo Giorgio Pedrollo Presidente Paternoster ha su agio nella sede della Scaligia della Basket anche da vecchio tifoso della Verona dei Canestri e soprattutto qui per un accordo importante per un accordo che ha un peso specifico rilevante è la squadra storica del basket di Verona quindi come non essere felici di essere qua noi siamo contenti come GSM di essere vicini nuovamente alla Tezenis per un campionato vincente e avvincente lo speriamo tutti GSM oltre a sponsorizzare naturalmente Tezenis offre la possibilità a tutti gli abbonati che vorranno appunto legarsi nuovamente alla Tezenis per il prossimo campionato delle tariffe assolutamente vantaggiosi un campionato che partirà fra un po' sarà un campionato sicuramente forte dove Tezenis siamo certi che riciterà la parte del protagonista perché se lo merita come società e se lo merita soprattutto i tifosi il basket a Verona è seguitissimo il palazzetto è sempre stato un po' la curva della squadra del basket veronese della Tezenis in questo caso quindi abbiamo le migliori aspettative per l'anno prossimo C'è una scontistica veramente incidente nel prezzo finale? Sì abbiamo deciso quest'anno appunto di venire incontro a tutti a tutti gli abbonati quindi è il messaggio che lanciamo di venire ad abbonarsi in massa alla Tezenis e quindi abbiamo deciso di offrire un prezzo a scontato a tutti chi vorranno abbonarsi alla Tezenis e cambiare gestore passando in la GSM quindi prezzi scontati a tutti ma soprattutto agli over 65 e anche ai ragazzini che potranno venire al palazzetto quasi praticamente gratis anzi direi gratis